Grazie a tutti. Noi stasera ci dobbiamo assumere... Allora, stasera ci sta ruotando una grande responsabilità. La prima responsabilità è quella di mantenere l'unità del centro-sinistra e anche del PD. Bravo! Siete cambiato tanto stasera. Allora, unità, forza, idee, progetti. Vinciamo se abbiamo idee e se abbiamo progetti. Se riusciamo a parlare alle persone, come abbiamo fatto qua con tutti i volontari e in particolare con coloro che qui, assieme a noi, hanno tenuto aperta questa sede tutti i giorni nella speranza di avere questo risultato. E sono due operai. Sono Antonello e sono Paolo. Bravo! Protagoristi, assieme a tanti operai nella lotta per il lavoro. Loro sono stati i protagonisti dell'isola dei Cassi Integrati. È a loro che dobbiamo dire grazie se questa sede è rimasta aperta, se ci ha consentito di riunirci, di trovarci. E' la loro grande speranza, la loro grande voglia di riscatto, di dignità che noi dobbiamo assecondare e dobbiamo tutelare. Quindi partiamo da qua. Partiamo da qua e conloggiamo tutta la città. Grazie, grazie davvero.